Ciao e bentornato sul mio canale, io sono Nellirfa e oggi andiamo a vedere come funziona la creazione del personaggio sul gioco Dragon's Dogma 2. Allora, vediamo subito la creazione. Sono molto molto curiosa, allora possiamo andare a scegliere se fare un Harrison o una pedina principale, in questo momento io farò questo. Chissà cosa uscirà fuori, perché ho visto alcune anteprime, ho già fatto una prova, quindi ho creato già un personaggio. Dicevo, ho visto alcune anteprime che sono molto interessanti per quanto riguarda la creazione, perché questa qui è una versione demo che trovate su Steam, quindi potete provare soltanto nella versione demo la creazione del personaggio. Però è molto interessante perché hanno fatto tantissime creazioni di personaggi illustri, anche personaggi dei giochi famosi e quindi si può creare un po' di tutto. Quindi andiamo a vedere subito cosa esce fuori. Allora, scegliamo uno slot vuoto, crea uno nuovo. Dunque, qui abbiamo vari tipi di razza, corporatura, testa, base per determinare gli elementi fondamentali dell'aspetto del proprio personaggio. Potrai poi modificarli selezionando personalizza. La razza del Harrison non potrà essere modificata una volta data la conferma finale all'aspetto del tagliato. Allora, dunque, qui vi fa vedere innanzitutto se possiamo andare a fare una razza, quindi umana, quindi maschio o femmina. Però non ho capito perché il maschio ha questa mega cicatrice qui al centro. Lo scopriremo magari giocandoci. E se mai ci giocherò, non lo so, adesso sto ancora riflettendo e vedremo. E poi questa altra razza, che è una razza felina, non so come si chiama. E quindi possiamo fare anche poi la versione femminile. Dunque, qui dobbiamo scegliere la corporatura, quindi il corpo base. Qui è veramente larga questa. Allora, questa è troppo alta. Non lo so, perché non vorrei che sia troppo bassa poi. Questa è un po' larghina, questa mi sembra più magra. Proviamo con questa qui. Puoi modificare il viso a piacimento in tre passaggi. Puoi usare la testa scelta come base per ulteriori modifiche. Va bene, allora. Vediamo un po' quello che ci aspetta. Allora, questa, beh, sono tutte abbastanza carine. No, questa non mi piace, è troppo bianca. Questa qua. Beh, anche questa non è male. Un po' la bocca è un po' troppo larga, forse. Allora, io sono incerta, perché prima l'avevo già iniziato a provare un pochettino per vedere come funzionava. Però anche questa mi piace molto. Vediamo cosa esce fuori con questa qui. Perché almeno la faccio un po' differente da quella che avevo già creato. Allora. Bella. Allora, io proverei con questa qua, che è un po'... Qui ci modifica, credo, anche il naso, eh. Poi possiamo andare a personalizzare. Vedete che il naso cambia. Si cambia il naso. Allora, vediamo un attimo. Beh, direi che la più dolce è questa. Allora, qua possiamo andare poi, una volta creata, a andare a personalizzare un po' tutto. Corporatura, quindi l'altezza. Questa sarà 1,60. Lunghezza del tronco, aspetto muscolatura, definizione muscolatura. Vabbè, insomma, un po' tutto quello che... Ah no, ma c'è anche la donna, la cicatrice al centro. Solo che c'è il reggiseno, non si vede. Testa, parte del corpo. Questo io direi di lasciarlo di default. Ora possiamo andare a cambiare la testa. Il colore della pelle. Bah, anche questo più o meno io lo lascierei così. La fronte, gli occhi, il naso, le orecchie, le guance, la bocca. Beh, già l'ha fatta bene. Allora, io andrei a cambiare i capelli. Intanto vediamo un po' che si può ingrandire, spostare. Così si vede meglio i dettagli. Allora, vediamo i tipi di capelli. Allora, a me piacevano molto le due trecce, queste qua. Per fare l'arcera. La vedo molto indicata. Però andiamo a cambiare il colore dei capelli. Quindi qui abbiamo la base. Quindi addirittura le radici. Possiamo fare un po' più scure. Non troppo. Così. E il colore delle punte. Non so quanto si veda così. Perché poi se lo andiamo a girare è veramente più scura. Allora, il colore delle punte. Beh, così diventano bianchi quasi, eh. Sono bianchi. Beh, direi un biondo così. Però questo ciuffetto al centro non è che mi fa impazzire. Vabbè. Allora, eccola qui. Qua prende un po' più di luce. Diciamo che si deve fare un po' il ritocco della ricrescita. Che è un po' più sul rossiccio. Comunque. Sfumatura di radici e punte. Ah, la posso fare più sfumato. Ecco, forse così è meglio. Che più o meno si vede la differenza. Ok. La lucentezza. Vabbè, io voglio i capelli lucidi, scusa. Non so quanto cambia, però. Ok. Vabbè, qui ripristinare la pettinatura. Allora, qui l'abbiamo fatto. Possiamo cambiare le sopracciglia. Queste sono abbastanza carine. Perché sono, ecco no, troppo grosse. Queste sono un po' più fini. Mamma mia. Troppo esagerate. Io direi la 10, che è un po' più fine. Ma possiamo anche andare a cambiare poi il colore. Perché secondo me col biondo troppo scure, non ci stanno bene. Senza arrivare a farle troppo chiare. Ecco, così magari. O no. E' un po' grigio, comunque. Infoltimento. Lo possiamo andare a infoltire. Facciamo così, non tanto spesso. Ok. E questo l'abbiamo fatto. Poi, vabbè, la peluria non ci interessa. Vediamo un po' gli occhi. Allora, tipo di occhi. Possiamo fare addirittura un colore di un occhio e un altro colore di un altro occhio. Colori pre... Allora. Tipo uno... Ah, sono di base. Ecco, vedete. Sono preimpostati. Quindi, vediamo se si può ingrandire ulteriormente. Così si vedono meglio. Sono molto belli sti occhi, eh. Vedete. Possiamo fare di diversi colori. Dai, faccio questi, sull'azzurro, perché questa è bionda. Ok, così. Poi, che altro? Torniamo indietro. Possiamo andare a fare le ciglia. Addirittura, vediamo un po' che tipo di ciglia. Non so se si vedranno. Va, non si vede nulla. Facciamo tipo due, quindi lasciamo un attimo qua. Ecco, l'obretto, per esempio. Abbiamo bisogno di ingrandire, se no non si capisce. Vedete? Possiamo fare vari tipi di trucco, quindi. Vabbè, questo per quanto riguarda la donna. Poi, il maschio sarà più che altro da lavorare sulla barba. Allora, poi il colore anche, andarlo a cambiare. Il colore non... Cioè, mi serve... Ah, ecco, cavoli. Stavo dicendo, mi sarebbe piaciuto avere più la tavolozza. Eccola qui la tavolozza. Diciamo una sul viola, perché non c'è altro di... Per esempio il verde manca, il blu... Vabbè, insomma, sono colori così molto chiari. Quindi, boh, io metterò il viola. Sì, ma come ho fatto a farlo alla tavola? Ah, ecco. Ok. Il colore dell'ombretto numero due, che non so cosa serva tanto per scurire un pochettino. Ah, la parte superiore, quindi. Ok. Possiamo farlo più opaco, meno opaco, metallico, vabbè, insomma. Poi, la matita degli occhi. Ecco. Faremo una matita un po' così, che va a sfumare lateralmente. Non so quanto si capisca, però. Ok. Poi, possiamo aggiungere le lentiggini. Ma io direi... Ah, vedete queste macchiette così? Che poi sono rosse in realtà, però... No, vabbè, troppe. Io le lasciare perdere. Vabbè, possiamo aumentare il colore anche del fard, quindi delle guance. Questo colore qua non si vede in un tubo. Allora, rimettiamo come ho fatto prima, mettere un po' sul rosa, magari, se riesce a capire meglio. Beh, non cambia tantissimo. Va a schiarire un po' di più qua la parte, vedete, sotto l'occhio. Poi qua bisogna lavorarci. Beh, bisogna lavorarci parecchio, comunque, per riuscire a farlo perfetto, questo personaggio. C'è molto da fare. Le labbra. Ecco, direi che le labbra... Attenzione. Allora, possiamo farle... Tipo 1. Anche qua mettiamo direttamente un bel colore, perché non si vede in un tubo. Allora, dissoluzione del colore delle labbra. Vediamo cosa cambia. Io lo volevo fare un po' più intenso, opaco. Labbra metallica, lucentezza. Boh, come si fa a farlo un po' più intenso, però? Non si vede niente così. Ma, boh. Allora, dobbiamo cambiare questo, forse. Ah, ecco, c'è solo la matita. Però così viene molto chiara. Ma, lo volevo fare un po' più intenso, ma non si vede. Vediamo se altri colori, magari. No, vabbè, nero. Ma, anche qua non c'è tanto danno. Non c'è un bel rosso. Questo non cambia molto. Vabbè, dai, lasciamolo così. Naturale. I denti. No, vabbè. L'arcata la lascerei bianca. Possiamo fare anche di diversi colori, ma non è il caso. Lasciamogli li bianchi. E qui abbiamo sistemato. E ora possiamo passare al nostro corpo. Torniamo su. E dicevo, possiamo andarli a fare dei tatuaggi. Allora, i tatuaggi che possiamo andare a fare sono in varie parti del corpo. Braccio destro, sinistro, gamba, gamba. Vabbè, ce ne sono davvero tantissimi. Sporcizia, addirittura. Corpo. Vediamoli un po'. Ah, qui sul busto. Aspetta. Faccio vedere un po' velocemente. Che poi sono, credo, gli stessi che abbiamo anche sulle braccia. Eh, ma non si vede un tubo. No. Allora, visto che non si capisce niente, lo andiamo a togliere qua. Come si fa a toglierlo? Indietro. No, no, no. Sì. No. In realtà non sono riuscita a toglierlo. Comunque, vabbè, lasciamoglielo così. In realtà, se magari... Ah, ma si poteva anche spostare. Magari se glielo facciamo più sotto si vede meglio. Come si fa a tornare però indietro? Quindi, wow, lo possiamo andare a spostare così, vedete? Quindi lo posso fare in un punto dove magari si vede meglio. Andiamo a vedere qualcosa di più piccino. Però poi lo posso anche rimpicciolire. Lo posso spostare così. Ecco, la grandezza del tatuato. E la no, è già... Ah, che carino. Eh, facciamoglielo così, va? Così non è troppo invasivo, dai. Ok. Allora, a questo punto, diciamo, abbiamo fatto tutto. Che poi lo vado a perdere. E andiamo a dargli un nome. Quindi, ripiloghiamo la razza femminile umana. Corporatura questa. Testa base, ok? Va bene. Allora, ci rimane da scegliere la classe. Possiamo scegliere tra il guerriero, arciere, questa sarà una arciera, il mago e il ladro. Quindi andiamo a fare l'arciere. bella. E ora la voce, perché dobbiamo fare tutto, se no non ce la do. Sentiamo un po'. Allora, per provare la voce, schiacciare il tasto V. Tutti uguali. ragazzi, io faccio la quattro, eh. Ma sì, dai, la quattro. Ok, siamo pronti. Quindi possiamo andare, ormai l'abbiamo finita il nostro personaggio, a creare, appunto, confermiamo, e andiamo a dargli un nome e la chiameremo a sorpresa nell'irfa. Molto sorpresa. No, cosa ho scritto? Perché? Allora, intanto andiamo lì una N maiuscola. Bella. Guardate qua come bella. Non si può ingrandire qua, no? Mi piace. E... Ok. E poi dobbiamo dare un soprannome. Visto che i soprannomi sono un po' tipo il cognome, probabilmente, non so bene cosa intende. Ce ne sono tantissimi, perché iniziano dalla A e vanno fino alla Z. Quindi, non lo so. Vediamo una. Angel, dai. L'irfa Angel. Un nome veramente azzeccato. E quindi, ecco qui il nostro personaggio. Allora, adesso, una volta che l'abbiamo creato, dice, vuoi procedere con questo personaggio? Certo, sì. Sono stati tre ore a farlo. Allora, questo personaggio ci dice, quando crei un personaggio in Dragos Dogma 2, potrai scegliere se usare dei dati preesistenti, quindi ci saranno già, magari, dei personaggi già creati, quindi possiamo andare a prendere quei dati, quindi crearlo, e portare così l'aspetto di un personaggio che è creato nella versione demo. quindi questo qui che abbiamo creato adesso, noi, andandola a importare, lo potremo andare a trovare quando andremo ad acquistare la versione completa di Dragos Dogma 2, e quindi non dobbiamo più andare a fare tutto questo lavoro. Quindi, adesso possiamo metterci, visto che mancano ancora un po' di giorni, con tranquillità a crearcelo nei dettagli, perché veramente dettagliato, piano piano, e quindi poi rimarrà una volta che acquisteremo il gioco e che partirà poi il tutto. Ok ragazzi, vi ho voluto mostrare il personaggio femminile, se volete potrei farvi vedere anche uno maschile, ma era tanto per divertirmi e fare qualcosa oggi, visto che comunque questo è un gioco molto atteso. Ci vediamo per un prossimo video, ciao! Ciao!